Ho acquistato per mio figlio abbigliamento e scarpe economiche, ma i vestiti sono già distrutti e sono distrutti anche i suoi piedi. Ma no, acquista sicuro. Abbigliamento e calzature di marca li puoi trovare a prezzi scontati tutto l'anno, da 1000 piedi. L'outlet specializzato in abbigliamento e calzature firmate 0-16 anni, con sconti dal 10 al 50%. 1000 piedi outlet a Rivoli, in corso Susa 6 e a Torino in via Monginevro 89 e in via Santa Giulia 48, da 1000 piedi. Gli sconti sono di moda tutto l'anno.